Come non ho mancato di dire, è un tema che ci sta moltissimo a cuore ovviamente, ma è un tema che riguarda l'azionista CDP, la sua catena di comando e controllo e sicuramente poi i ministeri che hanno un interesse rilevante, primo tra tutti il Ministro della Difesa. Quindi noi lasciamo semplicemente una parola, un ricordo in più per Claudio Graziano che è stato un maestro, un fratello maggiore, un grande uomo delle istituzioni, ma anche un grande amico. Dottor Foggia, oggi è il primo giorno di aumento del capitale sull'operazione con Leonardo, come sta procedendo l'operazione? Non ho guardato l'ultimo giro prima di salire sul palco, ma mi è da dire che sia sul pezzo del diritto, sia sul pezzo dell'azione stiamo andando bene, quindi so far so good.